Musica E' morta a 77 anni, lo scorso 23 ottobre l'attrice Maria Grazia Bone è stata diretta da registi come Luca Ronconi e Dario Fo con molte apparizioni nel cinema e nella tv. La sua scomparsa è stata resa nota da due sue colleghe, visto che la salma dell'attrice è ancora in attesa di essere reclamata nell'obitorio dell'ospedale Gemelli di Roma. Temiamo possa finire in una fossa comune, è morta da sola senza il conforto di persone care, hanno detto al messaggero le amiche Loredana Martinez e Renata Zamengo. Grazie a tutti.